Care amiche e cari amici, cosa sono questi? In realtà questi sono dei sassolini che abbiamo raccolto qui nel giardino fuori da Fisioradi a Vismara, ma somigliano molto all'oggetto dell'argomento di oggi, i calcoli. Incontreremo infatti a breve il dottor Filippo Pierangeli, un medico chirurgo specialista proprio in chirurgia generale e specialista per quello che riguarda tutte le patologie riguardante le calcolosi, le colecisti e tutto quello che è legato proprio alla formazione di questi terribili sassolini che tanto dolore provocano in chi poi si ritrova ad averci avere a che fare. Buonasera a tutte amiche e amici di Rossini TV, una nuova puntata di Check Up Obiettivo Salute, il nostro viaggio nella salute, il nostro viaggio nella medicina che facciamo con i medici che popolano la struttura Fisioradi di Vismara, una struttura che come sapete da qualche mese è attiva nella nostra città, sono tanti medici specialisti che vengono a Fisioradi per dare la loro professionalità, uno di questi è il dottor Filippo Pierangeli di Bologna che salutiamo e siamo molto contenti di avere con noi. Buongiorno a tutti. È un medico chirurgo, chirurgia generale, lui si occupa di tante cose ma noi vogliamo puntare l'attenzione su una patologia e su una questione che riguarda tanti italiani come ci dirà il dottore stesso. I calcoli, ma dottore i calcoli esattamente cosa sono? Dunque i calcoli sono delle vere, proprie piccole, più o meno piccole pietre che sono legate al fatto che alcune componenti della bile che è prodotta dal fegato vengono a precipitare nel contesto della bile stessa, in particolare nello specifico all'interno della colecisti. ricordiamo che appunto il fegato è deputato alla produzione della bile che è composta dai sali biliari e da colesterolo. Quando viene a prevalere nella composizione della bile una di queste sostanze tende a precipitare all'interno della bile stessa e a creare i calcoli. ricordiamo anche brevemente che cos'è la colecisti. La colecisti è una sorta di sacchetto che è deputato alla concentrazione della bile prodotta dagli epatociti che sono le cellule del fegato che convogliano nella via biliare principale la bile. Qui in fondo alla via biliare principale la bile trova un ostacolo che è rappresentato dallo sfintere di Oddi che è una che rappresenta il limite tra la via biliare e il duodeno e quindi va a ritroso e tramite il dotto cistico raggiunge la cistifella dove viene modificata e concentrata. Se appunto una delle componenti della bile viene a precipitare si formano i calcoli che possono essere dalle dimensioni di un granello di sabbia anche diversi centimetri dal punto di vista dimensionale. Certo e quindi immaginiamoci i danni che possono portare. Quindi è corretto comunque molto spesso di utilizzare la definizione di calcolosi della colecisti, vero per essere precisi sul tipo di patologia di cui stiamo parlando? Sì, direi che calcolosi della colecisti sia la dizione corretta. Che riguarda tante persone in Italia? Eh, riguarda tante persone perché sembra che il 10% della popolazione italiana ne sia interessata anche perché non necessariamente la calcolosi della colecisti è sintomatica ma sempre più spesso nel contesto di indagini svolte per svariati motivi, in particolare un'ecografia viene riscontrata in maniera occasionale. Ecco, ha detto bene, i sintomi. Molto spesso capita di avere a che fare con persone che hanno all'improvviso dei dolori terribili, dolori lancinati, ma come facciamo a distinguere? Quali sono i sintomi che ci fanno proprio pensare, oddio siamo di fronte a una situazione di calcoli? I sintomi sono molto vari e di varie intensità perché si va dalla semplice epigastralgia, cioè il paziente dice o mal di stomaco e questo è legato al fatto che, come sollevano dire i vecchi clinici dell'Università di Bologna, la colecisti piange con gli occhi dello stomaco e quindi dolore allo stomaco oppure si può passare a una sintomatologia acuta ben più importante caratterizzata da dolori effettivamente lancinanti in sede sottocostale fino anche febbre, eventualmente vomito. Sono dolori effettivamente di grande grande intensità, talvolta irradiati verso la schiena e alla spalla destra, quindi alla spalla omolaterale. Per non parlare poi di quelle situazioni in cui i calcoli migrano nella via biliare principale e vanno a creare quelle che sono le situazioni più temibili come complicanze della calcolosi della colecisti, mi riferisco in particolare alla calcolosi della via biliare principale, quindi la calcolosi del coledoco che può comportare ittero e quindi per ostruzione delle vie biliari, oppure anche pancreatiti che sono forse effettivamente la complicanza ancora più temibile legata al fatto che la via biliare principale ha uno sbocco comune rispetto al dotto pancreatico principale, se si ostruisce il dotto pancreatico principale si può andare incontro a una pancreatite acuta, ricordiamo come la pancreatite acuta litiasica sia una delle complicanze anche potenzialmente mortali devo dire a tutt'oggi. Quindi appena si manifestano questi sintomi bisogna subito correre ai ripari, correre dal medico e affrettarsi per una diagnosi ed essere sicuri di quello che si può fare? Sì, dal punto di vista diagnostico infatti dicevo che l'esame più importante ed è quello che consente di rivelare la maggior parte dei casi è proprio la ecografia, c'è da dire che di fronte al sospetto di una complicanza o anche di fronte al fatto che talvolta la struttura, soprattutto la via biliare principale nel suo tratto terminale può essere non ben esaminabile a causa del meteorismo ad esempio da cui è affetto il paziente, al column dilatato, l'intestino comunque dilatato, a quel punto è necessario fare una colangiorisonanza, quindi una risonanza magnetica volto allo studio della via biliare principale per escludere proprio la presenza di calcoli eventualmente nella via biliare principale stessa perché questo tipo di problema va trattato, in genere viene trattato per via endoscopica prima di effettuare la colecistectomia. Infatti mi ha quasi strappato le parole di bocca, ovviamente adesso andiamo sul campo delle terapie come affrontare, come curare al meglio questa patologia. Sì, dunque diciamo che la terapia è essenzialmente chirurgica perché si è parlato spesse volte del ruolo degli acidi biliari nella terapia comunque della calcolosi biliare, esistono casi anedottici in cui piccoli calcoli o comunque anche fango biliare, quindi sono delle sorte di granelli di sabbia che sono all'interno della colecisti, si siano dissolti utilizzando gli acidi biliari. Tuttavia devo dire che più delle volte ci troviamo davanti a diagnosi ecografiche di anche microcalcoli, comunque calcoli di dimensioni anche di qualche millimetro che a quel punto non sono più passibili di terapia medica. A quel punto si tende a fare anche più frequentemente intendo rispetto al passato la terapia chirurgica che proprio grazie al fatto che la terapia chirurgica al giorno d'oggi è una terapia mininvasiva, insomma mi riferisco alla colecistectomia laparoscopica sostanzialmente, che si fa inserendo dei trocar nell'addome, in genere sono tre o quattro trocar, il primo in sede sovraombelicale in cui si inserisce l'ottica che è quella che consente la visione delle strutture, un tre quarti in ipocondrio destro, in genere di 5 mm di diametro, quindi una cosa molto molto piccola, un altro da un centimetro viene messo sotto l'arcata costale sinistra e un eventuale quarto trocar viene utilizzato per sostenere il fegato qualora il fegato tenda a ripiegarsi sulla cistifellea, il che impedirebbe ovviamente di vedere le strutture che vanno assolutamente riconosciute durante l'intervento, che sono sostanzialmente il dotto cistico, che è quello attraverso cui la bile viene espulsa dalla colecisti e l'arteria cistica che è quella che vascolarizza la cistifellea, la colecisti. A questo punto le strutture vanno isolate, riconosciute, vanno messe delle clip metalliche, in genere si usa del materiale, sono delle leghe inerti per cui il paziente può tranquillamente poi essere sottoposto ad esami quali risonanze magnetiche senza problemi, si tagliano queste strutture, poi la colecisti viene scollata dal fegato ed estratta attraverso il trocar, quello messo in sede umbilicale, in sede centrale. Normalmente la degenza è di uno o due notti in ospedale e la ripresa dell'attività lavorativa, poi ovviamente dipende dall'attività lavorativa, può essere considerata fattibile nell'arco di una settimana, dieci giorni. Io ho addirittura pazienti che il secondo giorno sono tornati dalla casa di cura a casa a piedi, non erano grandi distanze però sicuramente. Vorrei però lanciare un messaggio riguardo al fatto che è opinione comune che la colecistectomia sia un intervento molto semplice, come tutti gli interventi però è gravato da un tasso di complicanze anche perché il chirurgo si trova a che fare con delle strutture che hanno dimensioni al di sotto del centimetro e che ci sono situazioni infiammatorie, situazioni flogistiche che in questo momento in cui ci sono indubbiamente dei ritardi se vogliamo nella terapia di questa patologia, che è una patologia comunque benigna, quindi non neoplastica, ci troviamo, ripeto, davanti a situazioni infiammatorie in cui ad esempio la parte terminale della cistifella o il dotto cistico stessi sono fusi alla via biliare principale e in questi casi ovviamente la cosa può non essere riconosciuta e si possono, ed è statistica anche in condizioni normali, verificare delle lesioni delle vie biliari che poi si riescono ad accomodare però insomma sono qualcosa di grave per cui bisogna sempre considerare il fatto che la colecistectomia è un intervento, però sarebbe, è sempre un discorso di rapporto rischi benefici ed è bene non trascinarsi troppo nel farsi operare, insomma questo per quel che riguarda i pazienti, proprio perché se no queste situazioni infiammatorie possono avere, possono complicare realmente la fattibilità dell'intervento, è chiaro che poi l'intervento può essere poi condotto in laparotomia, quindi con l'incisione sottocostale come si faceva un tempo, qualora ecco non si riescano ad individuare bene le strutture o se si ritenga indicato tutto qui. Ok dottore, ci ha fatto davvero un, ci ha fatto quasi vedere cosa può fare la medicina moderna, la chirurgia moderna con questi trocker di cui ha parlato, i granellini di sabbia invece della nostra clessidra hanno finito il loro percorso, quindi la ringraziamo davvero per queste spiegazioni. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi. L'appuntamento a lunedì prossimo e grazie a voi per averci seguito. Grazie a voi, grazie a voi.